Parti di calcio, buonasera dallo stadio delle Alpi di Torino. Forse per la prima volta dagli anni 80, quando la sfida fra bianconeri e giallorossi valeva da solo a mezzo campionato, Juventus e Roma tornano ad affrontarsi finalmente cariche di stimoli e di ambizioni. La squadra di Lippi, infatti, è reduce da 5 vittorie consecutive, riportate contro Milan, Reggiana, Padova, Marittimo, Funciale e Admira Bacher, mentre la squadra di Mazzone è galvanizzata dopo il bellissimo successo ottenuto nel derby contro la Lazio. Seguiremo questa partita con i contributi da bordo campo di Franco Costa, le riprese della squadra esterna 2 di Torino e la regia di Enzo De Pasquale. Intanto state vedendo le formazioni che vi ripeto. Questa è la Roma. Cervone, Anoni, Lanna, Piacentini, Petruzzi, Carboni, Cappioli, Terna, Balbo, Giannini e Fonseca. In panchina con il numero 12 Lorieri, 13 Colonnese, 14 Benedetti, 15 Maini, 16 Totti. Per quanto riguarda la Juventus, Peruzzi, Ferrara, Orlando, Carrera, Porrini, Sousa, Torricelli, Marocchi, Vialli, Del Piero e Ravanelli. In panchina numero 12 Rampulla, 13 Iarni, 14 Tacchinardi, 15 Tognonna, 16 Grabbi. Il direttore di gara di questo incontro sarà il signor Ceccarini di Livorno. Nella Juventus mancano questa sera la bellezza di 5 titolari. Si tratta di Fusi e Kohler in difesa, di Conte di Livio a centrocampo e di Roberto Baggio in attacco. Sono tutti giocatori che sono infortunati e quindi indisponibili. A queste assenze bisogna aggiungere quella ormai vecchia datata di De Champ e quella all'ultimo momento di Tacchinardi che comunque è in panchina. Vedremo tatticamente Carrera libero, Porrini stopper, Torricelli esterno destro e Del Piero trequartista, in pratica supporto delle punte Vialli e Ravanelli. Nel contesto dei quarti di finale di questa Coppa Italia, questo è l'ultimo incontro che deve essere disputato e i risultati precedenti sono stati Parma-Fiorentina 2-0. E ne approfittiamo per dire che la vincente di questo confronto sfiderà la vincente di Juventus-Roma. Lazio-Napoli 1-0, Inter-Foggia 1-0. Tutte le partite di ritorno sono programmate per il momento per il 14 dicembre, ma poi naturalmente per esigenze televisibili ci saranno degli spostamenti fra martedì, mercoledì e giovedì. Tatticamente la Juventus riproporrà, nonostante le tante assenze, il consueto modulo, cioè il gioco misto, in parte a uomo e in parte a zona, con tre difensori, quattro centrocampisti, tre punte. In pratica, nonostante l'handicap di tutti questi titolari assenti, Lippi ha deciso di rimanere fedelissimo al modulo che prevede tre attaccanti. Si tratterà questa sera della numero 9, Vialli, numero 10, Del Piero, numero 11, Ravanelli. Dovremmo vedere come libero, come detto Carrera, coppia di stopperi invece Porrini e Ferrara. Poi a centrocampo, in linea di massima, Torricelli a destra, Orlando a sinistra, in mezzo Sousa e Marocchi. In avanti, come detto, le tre punte Ravanelli del Piero e Vialli. E intanto è cominciata la partita. Il lancio di Carbone in direzione di Fonseca. Subito lo scatto su Ferrara. Ancora Fonseca che è seguito da libero a Carrera. Lanna. Diretto passaggio per Petruzzi. Ancora Lanna. Giannini. L'appoggio per Lanna. Terna. Una serie di scambi, ne spazi ridotti e poi il recupero da parte di Ferrara. Il pallone che è stato sfiorato di testa da Vialli. Una bella deviazione, diventava un assist per Del Piero. Con i piedi Cervone in a direzione di Annone al suo rientro. Non aveva giocato infatti domenica nel derby. Giannini. Gli ha ceduto palla a Piacentini. Ancora l'indietro per Lanna. Giannini. Questa è la sua nuova posizione nella Roma. Voluta fortemente da Mazzone. Molto efficace nel derby. Cioè in pratica regista davanti alla difesa. Retro passaggio di Cappioli. Giannini che toglie letteralmente il pallone dai piedi di Petruzzi. Un rilancio di Annoni. Di testa Porrini. Pallone che ribalza davanti a Sousa. È attaccato da Benedetti. Anzi da Terna. Ancora un lancio in avanti per Sousa. E il pallone che scorre in fallo laterale. Benedetti è uno dei giocatori della Roma. in panchina assieme a Lorieri, a Colonese, a Maini e a Totti. Ancora un lancio per Fonseca. Tallonato da Porrini. Tutto un controllo infelice. Ancora la Juventus in attacco. Ravanelli. Vialli. Retro passaggio sbagliato. Annoni. Si gioca in spazi ridottissimi. Come vedete in queste prime battute di gara. Siamo arrivati al secondo minuto. Zero a zero fra Juventus e Roma. Carboni. Lanna. Giannini. Ci sono due playmaker in campo questa sera nella Roma. Più arretrato Giannini, più avanzato Terna. Recupero di Ferrara. Sousa. Marocchi. Profondità per Ravanelli. Intanto scatta Vialli. Ancora Ravanelli. Ottimo l'intervento. La chiusura da parte di Cappioli. Pulitissima col passaggio all'indietro per Cervone. Carboni. C'è della sfera Giannini. Posizione arretratissima per Giannini. Ripetiamo in questo avvio di gara. E spazza via il pallone Giannini. Perché c'è un'interruzione da parte dell'arbitro. Vediamo quello che succede. Si deve cambiare il pallone. Vedete che è lo stesso numero 7 della Roma. Cappioli che ha ceduto il nuovo pallone all'arbitro. Evidentemente c'erano dei problemi. Non era del tutto gonfio il primo. E si ricomincia con un'altra sfera. Siamo arrivati al terzo minuto del primo tempo. Sempre 0-0 fra Juventus e Roma. E nella questa partita di andata valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. In postazione di Giannini. Il lancio fuori misura per Fonseca. Giannini ha visto scattare Fonseca. Fonseca si è fermato. E quindi questo è il motivo per il quale probabilmente non ha calibrato questo lancio di 35-40 metri. La rimessa in gioco intanto di Ferrara fra le mani di Peruzzi. Angelo Peruzzi è il portiere meno battuto del campionato per il momento con 6 gol al passivo. Di testa Annoni. Il seguimento di Cappioli. Orlando contro Cappioli. Ancora Annoni. La combinazione con Cappioli sempre sulla destra. Il lancio profondo per Fonseca. Di testa Ferrara. Riparte la Juventus a Sousa. Sbagliato il passaggio per Marocchi. Passaggio indietro di Balbo per Giannini. Diagonale per Piacentini. Cappioli. Un pressing ossessionante da parte delle due squadre a centro campo. Tante difficoltà per i portatori di palla. Ci prova la Juventus a passaggio di Marocchi a Del Piero. Lo scatto e il recupero di Terna. Carboni. Ancora un lancio in direzione di Fonseca. Però schizza via e la pallone non riesce a controllarlo. Ripetiamo che noi abbiamo a bordo campo Franco Costa. Ci collegheremo fra qualche istante con lui. Per avere, lo faremo durante questa partita, un po' le reazioni, gli umori in particolare delle panchine. Oltre che opinioni sull'andamento della gara. Il lancio di Orlando. Direzione di Ravanelli. Punta l'uomo, sempre Ravanelli. Davanti a lui il libero Petruzzi che riesce a deviare il pallone. Fabio Petruzzi è un libero che ha compiuto in ottobre 24 anni. Ha giocato un ottimo derby domenica scorsa contro la Lazio. Giocatore che in passato era stato prestato per due stagioni alla Casertana, per una dall'Udinese. Si riparte non dalla rimessa laterale, dal corner sempre con Orlando. Il colpo di testa di Ferrara. In seguimento di Viali. E' stato ancora una volta allungato il pallone, altra rimessa laterale bianconera. L'ultimo intervento era del difensore esterno sinistro, Carboni. La rimessa di Torricelli, questa sera spostato a destra. Il lancio di Viali. Finiscono a terra sia Noni che Ferrara. I due numeri due delle formazioni non c'è assolutamente fallo. L'impatto era involontario. Torna nelle retrovie Ciro Ferrara che si è trovato un po' a disagio domenica scorsa a Padova contro Vlaovic. Non bene nel primo tempo, meglio è andato nella ripresa. Giannini. Il passaggio all'Anna. Il lancio per Fonseca. E anche questa volta è un po' la caratteristica di questi primi minuti di gioco. Non c'è precisione nei rifornimenti dei centrocampisti. Rimessa laterale di Ferrara. Sousa è tallonato da Terna. Recupero di Balbo. Fonseca. Intanto finisce giù Balbo. Si continua a giocare. Cappioli davanti a lui c'è Orlando. Intuisce tutto Ravanelli e riparte. Contropiede Bianconero. Poi c'è un intervento di Piacentini su Ravanelli. E vediamo la decisione dell'arbitro. Il calcio di punizione bianconero proprio per il fallo di Piacentini. Vediamo la ripetizione di questo episodio. Siamo arrivati al sesto minuto e mezzo del primo tempo. Sempre solo 0 a 0. Immagine in diretta con il tiro di Del Piero. E la pallone che è terminato fuori. Primo collegamento a bordo campo. Vai pure Franco Costa. Sia Lippi che Mazzone sono già in piedi. Soprattutto Mazzone comincia ad agitarci. La Roma in fase offensiva rimane schierata con il 3. 5-2. Il 3 in linea dunque con Annoni, Petruzzi e Lanna. 5 centrocampisti e Fonseca e Balbo davanti. In fase difensiva i difensori in linea diventano 4. Con l'aggiunta o di Giannini o di Piacentini. Mi pare che si giochi soprattutto sul pressing su tutti e due i fronti. E' una partita molto aperta. Chiaramente la Juventus patisce l'assenza di molti titolari. Il titolo di seconda linea. Intanto siamo arrivati al settimo minuto e mezzo di questo primo tempo. Rivediamo ancora l'episodio del fallo. Il calcio di punizione è già abbattuto. Sempre 0 a 0 tra Juventus e Roma. Passaggio all'indietro di Marocchi, direzione di Ferrara. L'apertura verso Torricelli. Ripetiamo Torricelli spostato da ruolo di Libero, sostituto di Fusi sulla fascia destra per la mancanza contemporanea di Di Livio e di Conte. Colpo di tacco di Ravanelli. Il cross di Orlando. Pallone un po' lungo per Del Piero. Tentato un stop non facile. Sousa. Il pallonetto ancora per Vialli. Lo scatto di Vialli ma intanto il gioco è stato fermato dal signor Ceccarini. Era stata una bella giocata questa da parte di Sousa. Comunque ripetiamo tutto vano perché già si era alzata la banderina del Guardalina. Vediamo la ripetizione di questo episodio. In effetti dando un'occhiata alle immagini al momento in cui parte il passaggio e passa senz'altro regolare la posizione dell'attaccante bianconero. Comunque ripetiamo calcio di punizione per la Roma dopo 8 minuti e mezzo. Di testa ancora Sousa. Recupero di Giannini. Piacentini. Cappioli. Ancora Giannini. Terna. Sempre grande pressi che grande aggressività delle due squadre a centro campo. Un po' di spazio finalmente per Carboni sulla sinistra. Effettua il cross. C'è stata una deviazione da parte di Ferrara che recupera la palla. Nella Roma per quello che vediamo l'Anna su Vialli a Noni su Rovanelli. Però i due stopper si scambiano ogni tanto gli uomini a seconda della posizione in campo. Dall'altra parte invece c'è Forrini su Fonseca e Ferrara su Balbo. Però stesso discorso anche per i difensori marcatori della Juventus. Vialli. Cambia gioco per Torricelli. Cerca di superare Carboni e c'è fallo. Un po' di solito questo duello sulla fascia fra due terzini di ruolo. Torricelli e Carboni. Vialli. Attentato la partenza, altro intervento falloso questa volta di Annoni. Possibilità dunque per la Juventus di battere il calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore. Avete visto la trattenuta da parte di Annoni che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Ceccarini. Enrico Annoni è tornato questa sera a Torino dopo quattro stagioni di derby a cavallo fra il 90 e il 94. Ovviamente giocava dall'altra parte nella Torino e domenica scorsa ha disputato soltanto un pezzetto di derby. Entrato nel secondo tempo al ventiduesimo al posto di Moriero. Adesso Lippi è davanti alla panchina in piedi. Calcio di punizione bianconero esattamente alla decennio minuto. In barriera si portano anche diversi giocatori bianconeri, in particolare Marocchi e Porrini. Batte Vialli, ribatte la barriera, cade Annoni. Tiro ancora di Vialli. La rovesciata di Terna, la rovesciata di Fonseca. Tutti i giocatori della Roma in questa fase erano nella loro metà campo quindi non ha avuto esito il servizio di Fonseca. Ricomincia Sousa, di testa Vialli, una bella sponda per Ravanelli. Rotazione del pallone verso Orlando. Orlando che punta a Cappioli. Del Piero, Del Piero contro Annoni. Il cross, colpo di testa di Vialli e il pallone che è terminato sopra la traversa. Vialli era in posizione favorevolissima, liberissima davanti alla porta. Grande occasione mancata dalla Juventus e rivediamo. Il cross di Del Piero. Vedete Vialli, liberissimo, colpo di testa e Cervone ha compiuto un vero e proprio miracolo. È stato aiutato anche un po' della sorte ma era comunque sulla traiettoria della palla. Vedete una strana respinta da parte di Cervone, questo pallone che si impenna e finisce sopra la traversa. Il corner battuto da Del Piero. Il tiro di Orlando che è stato respinto da Fonseca. La prevalenza territoriale come era previsto da parte della Juventus che è in casa deve fare la partita in questi primi minuti. Da Sousa all'indietro per Porrini. Ancora all'indietro per il libero Carrera. Mette in movimento Torricelli. Sousa. E c'è la deviazione da parte di Carbone. Mazzone torna in apanchina e tatticamente per quello che vediamo come era anche qui nelle previsioni è Piacentini a seguire Del Piero. Quindi oltre alle due marcatura a uomo su Ravanelli e Vialli c'è questa di Piacentini sul trequartista della Juventus che prende il posto. Gioca nella posizione abituale di Baggio. Fa un po' l'elastico Del Piero fra il centrocampo e l'attacco. Intanto altri problemi per quanto riguarda il pallone evidentemente o poi il rituale di questa partita una costante altro cambiamento. Ha rimesso in gioco di Torricelli. Ravanelli. Da Torricelli ancora indietro Ferrara. Il lancio nella zona di Vialli. Di testa Vialli e il pallone troppo alto per Marocchi. Carboni. Troppo lungo il pallone anche in questo caso per Balbo. Il retropassaggio di Carrera verso Peruzzi. Ancora Carrera. A servizio di Ferrara per Ravanelli. C'è una respinta di Lanna. Inseguimento di Balbo. Anticipo di Balbo. E poi l'intervento in tecla scivolato di Carrera col pallone che resta in campo. Vediamo che è stato l'ultimo a toccare la palla. A giudizio dell'arbitro è stato Terna. Siamo arrivati quasi al quarto d'ora. Tredicesimo minuto del primo tempo. Sempre 0 a 0 fra Juventus e Roma. Partita molto intensa sul piano agonistico. Con questi duelli ravvicinatissimi a centro campo. Latita un pochettino lo spettacolo. Rilancio di Lanna. Di testa Ferrara. Del Piero. Ancora la pressione costante dei centrocampisti della Roma che creano parecchi problemi, ripetiamo, a chi porta palla nel settore mediano della Juventus. La Roma ha fatto benissimo tutto questo domenica scorsa nella partita contro la Lazio nel derby. Ferrara. Stava intuendo tutto Fonseca, quindi cambia idea Ferrara. Il suo passaggio in avanti per Torricelli. Torricelli contro Terna. Parte il traversone. Pallone buono per Vialli. Era una via di mezzo, il suo file, il tiro e il passaggio per Ravanelli. Comunque Juventus è che resta in attacco con la rimessa di Orlando. Sousa. Ancora un traversone ribattuto da Piacentini. Da Porrini a Ferrara. Si allarga intanto e riceve Torricelli. Attaccato da Carboni. Lo scatto di Ravanelli è controllato da Lanna. E ribatte comunque Lanna e la pallone in fallo laterale. Non c'è una vera e propria marcatura individuale su Del Piero. Notiamo che Piacentini rimane abbastanza in zona davanti alla difesa centrale aspettando i centrocampisti che si inseriscono a turno. Adesso Terna è controllato ad esempio da Del Piero. E poi c'è l'ultima deviazione da parte di Torricelli e ancora la rimessa dal fondo a beneficio della Roma. Vedete il pallone fra le mani di Giovanni Cervone che è il meno battuto del campionato dopo Peruzzi. Anche lui ha subito pochi gol. 7 a 6 in questo duello fra i due estremi difensori. Giannini attaccato da Sosa. Petruzzi. Il lancio per Balbo. Recupero di Sosa. Da Porrini in avanti per Del Piero. Adesso è Terna che controlla Del Piero. Marocchi. Profondità Ravanelli. Tocco d'esterno. Porrini. Giannini. Ancora Terna. Ha lanciato uno sguardo in avanti. Non ha visto però nessun compagno smarcato. Adesso si inseriscono le punte Balbo e Fonseca. Un ottimo passaggio da parte di Cappioli. Ha allargato molto bene il pallone per Terna. Il traversone. E c'è la conclusione al volo da parte di Balbo. Balbo sempre piazzato ottimamente nell'area di rigore avversaria. E giunto puntuale su questo cross. Rivediamo l'episodio. Tutto questo al sedicesimo del primo tempo. La battuta al volo e la deviazione in calcio d'angolo. Deviazione di Porrini. Dalla bandierina Fonseca. Si avvicina al pallone anche il numero 4. Il mediano Piacentini. Il cross di Fonseca. Pallone molto bel calciato. La rispinta di testa di Ferrara. E poi un tiro dalla lunghissima distanza di Annone. Siamo arrivati al diciassettesimo minuto di questo primo tempo. Sempre reti inviolate 0-0 fra Juventus e Roma. E adesso la Roma si fa viva nella metà campo avversaria. Un inizio guardingo. Ripetiamo com'era nelle previsioni. E adesso il tentativo di distendersi un po' di più in contropiede. Il pallone è toccato da Sousa. Orlando. Ancora un lancio per Ravanelli. Di testa Marocchi. Piacentini. La solita ammucchiata nel settore mediano del campo. Carrera. L'apertura per l'esterno sinistro. Bianconero. Orlando. Bialli. Bel colpo di tacco per Ravanelli. E vediamo la decisione dell'arbitro. C'è un affallo commesso probabilmente da Ravanelli. Che ha spostato l'avversario mentre riceveva il pallone. Carboni. Balli indietro per Giannini. Elabora ancora questo pallone. Poi lo cede all'altro playmaker della squadra. Terna. In profondità Fonseca. Passaggio era di Carboni. Il cross e la parata da parte di Peruzzi. Si riparte subito. Pallone nella zona di Del Piero. La pressione di Piacentini. Un buon passaggio per Cappioli. Ancora Cappioli. E' rubato palla a Sousa. Il cross. Da respinta di testa di Carrera. Del Piero molto arretrato. Orlando. Tecro scivolato di Annoni. Si alza la bandierina del guardalineare. Avvisato una posizione irregolare. Probabilmente di Fonseca. Ma comunque l'arbitro dice che si deve giocare. Bialli spalla alla porta. Su di lui sempre Annoni in questa fase. Torricelli. Ferrara. L'anticipo di Lanna su Ravanelli. Vedete che in effetti i due stopper della Roma si scambiano continuamente gli avversari a seconda della posizione. Quando Ravanelli agisce a destra lo prende l'Anna. Quando Bialli sta qui a sinistra lo prende Annoni e viceversa. Intanto il gioco è stato interrotto per questa infrazione su Cappioli. Che avete visto ha reagito anche verbalmente nei riguardi del giocatore. Si tratta di Orlando. Orlando gli ha agganciato il pallone. Un fallo un po' pericoloso. E Cappioli è rimasto a terra. Massimiliano Cappioli ha segnato per il momento due reti in questa stagione. Una con il Fiorenzuola. Partita di Coppa Italia. E poi proprio domenica scorsa il 2-0 contro la Lazio. Nella derby aveva giocato nella zona di Fusera. Disputato un'ottima partita. Nonostante il fatto che Fusera sia stato sicuramente uno dei laziali. Probabilmente almeno che ha demeritato di meno. Vediamo che Cappioli viene portato con la barella fuori campo. Ci auguriamo che sia soltanto un provvedimento momentaneo che Cappioli possa tornare in campo. In ogni caso abbiamo Franco Costa poi che potrà verificare le sue condizioni fisiche. Per il momento Cappioli rimane vicino alla panchina della Juventus. Soccorso naturalmente dallo staff medico della Roma. Intanto si ricomincia a giocare il lancio di Petruzzi. Di testa Ferrara. La partenza di Ravanelli. Lanna. Carboni. Ancora profondità per Fonseca. Attacca la Roma che attualmente è in 10 uomini per l'assenza di Cappioli. Ancora un traversone e la respinta di Carrera. Vedremo fra qualche istante se effettivamente Costa potrà avvicinarsi un po' di più alla zona dell'incidente e capire quello che è successo a Cappioli. Ponseca. Retrovassaggio per Carboni. Ancora Lanna. Terna. Balbo. All'indietro per Annoni. Ancora un lancio per Terna. Troppo lungo e c'è la possibilità di collegarci adesso con Costa. Vai pure Franco. Si sono di fronte a Cappioli che si sta rimettendo la scarpa destra. Una botta credo la caviglia. Anzi senz'altro la caviglia destra. Non credo ci tratti di distorsione perché Cappioli è pronto per rientrare. Cappioli tra l'altro era stato fino a pochi minuti fa oggetto di protesta da parte di Mazzone perché teneva una posizione troppo arretrata. Mazzone l'ha richiamato spesso perché ha sommesso una posizione più avanzata. Il prossimo collegamento parleremo del pubblico Carlo. Ti restituisco la linea. Siamo arrivati al ventunesimo minuto del primo tempo. Sempre 0 a 0 fra Juventus e Roma. L'impostazione della Roma che sta uscendo bene dal suo guscio dopo l'inizio di gara che era stato di marca bianconera. Da Piacentini proprio Cappioli rientrato in campo in buone condizioni. Tentativo di cross. La respinta di Carrera. Orrini. Marocchi. L'intervento di Terna. Torricelli. Ha sbagliato il passaggio per Viali. Ancora il pallone che è stato toccato per un attimo da Marocchi. Piacentini. All'indietro per Annoni. Lungo possesso di palla da parte della Roma che per il momento riesce a spezzare le trame offensive degli avversari. Juventus pesantemente condizionata questa sera è il caso di sottolinearlo da tutte queste assenze. In difesa mancano Fusi e Kohler. A centrocampo Conte e Di Livio in attacco Baggio. E aggiungiamo la mancanza all'ultimo momento di Tachinardi che è una panchina con la maglia numero 14. Avanza Porrini. Il libero a Carrera. Davanti a lui però a una certa distanza c'è Fonseca. Ferrera. Ferrera contro Fonseca. Ancora all'indietro per Carrera. L'appoggio a Marocchi. Del Piero. Si tratta per l'esattezza di Torricelli che scatta. Ha superato Carboni. Ravanelli. Il cross. Il pallone per Del Piero di testa. Vialli in aria. Il tiro. E la palla in rete. Una fiammata della Juventus al 23esimo minuto del primo tempo. Il pallone in rete. La segnatura da parte di Vialli. Proprio in un momento, lo stavamo dicendo, in cui la Roma dava la sensazione di venire fuori bene nella metà campo avversaria. Adesso rivedremo questa esecuzione da parte di Vialli. Possiamo senz'altro parlare di azione rapida. Capovolgimento di fronte della Juventus. Vedete il doppio controllo di Vialli e il pallone calciato di destro in rete. Juventus dunque in vantaggio. Siamo arrivati al 22esimo minuto del primo tempo. Rete di Vialli. E quel Vialli che per il momento e nella stagione aveva già segnato 5 gol. 4 in campionato, 1 in Coppa Italia. Giustamente le telecamere della squadra esterna 2 di Torino. Regia Enzo De Pasquale vanno sul protagonista di questa segnatura. Adesso stiamo attenti alla reazione da parte della Roma. E' una Roma che era diventata molto interessante, ripetiamo, nel suo gioco negli ultimi minuti. E che adesso è stata tradita da questo gol bianco-nero. Il cross di Piacentini. La respinta di testa da parte di Ferrara. Il rilancio di Orlando. Lo scatto ancora di Vialli, inseguito da Noni. Dovante Lucio e Petruzzi. Chiusura di Lanna. Cerca subito di reagire, d'orgoglio la Roma. E il lancio di Lanna è stato deviato da Sousa. Adesso è la Juventus che tenta il mantenimento del pallone con Torricelli. Da Ferrara a Carrera. Marocchi. Diagonale per Vialli. Cerca la sponda, non riesce questa volta in direzione di Del Piero. E poi c'è il passaggio indietro del libero Petruzzi. Ancora la caccia del pallone. Prima Ferrara, poi Carrera. Ferrara. Il lancio per Ravanelli, troppo alto. Lanna. Passaggio a Terna. L'appoggio a Piacentini. Giannini. Giannini. Adesso è una posizione più avanzata. È rimasto più indietro Terna. Carboni che punta l'uomo. Effetto al traversone. La respinta di Orlando. Di testa Sousa. Terna. Giannini ancora l'indietro per Lanna. Giannini. Fa filtrare un ottimo pallone in direzione di Terna. Terna contro Ferrara. Punta l'uomo. La partenza dello svedese. Il tecle è scivolato da parte di Ferrara. L'arbitro ha visto anche una deviazione in effetti c'era da parte di Terna. E quindi si riprende con la rimessa dal fondo per la Juventus. Intanto abbiamo rivisto dal basso l'esecuzione e la ripetizione del gol segnato da Piali al ventiduesimo del primo tempo. Juventus 1 Roma 0. Primissimo piano per Marcello Lippi. E siamo arrivati adesso al venticinquesimo. Pudiché di Peruzzi. Di testa Lanna. Sousa. Detta il diagonale profondo per Ravanelli. Ravanelli contro Petruzzi. Dribbling. E poi c'è il piegamento difensivo da parte di Carboni e il fallo di Carboni su Ravanelli. Questo è il primo cartellino giallo della partita proprio all'indirizzo della giocatore della Roma mentre rivediamo l'episodio. Nel caso di dare un'occhiata a quelli che erano i giocatori diffidati proprio per quanto riguarda la Coppa Italia. Nella Juventus ha soltanto Tacchinardi che è in panchina. E nella Roma Cappioli, lo stesso Carboni, Cervone, Lanna, Giannini e Piacentini. Ammunizione per Carboni dovrebbe scattare quindi la squalifica in vista della partita di ritorno. Staremo a vedere. Siamo arrivati al ventiseiesimo calcio di punizione bianconero. In area assieme a Biali si sono portati anche i due difensori marcatori, cioè Porrini e Ferrara. Sul pallone vedete Orlando, uno specialista di questi calci di punizione, e Del Piero. Probabile combinazione a due fra i due giocatori, infatti è così e diventa più che un tiro un cross a quello di Orlando. Del Piero fa filtrare il pallone in direzione di Viali. Ancora il rilancio romanista nella zona di Giannini. L'intervento di Torricelli all'inviato per Carrera. Sousa. Ravanelli, talonato da Annoni. Una piccola scaramuccia fra Annoni e Ravanelli. Qualche scintilla che riaffiora ripensando ai derby Juventus-Torino delle scorse stagioni. Comunque nulla di grave, punizione bianconera. Da Sousa Orlando direttamente al volo, molto bene per Viali, che colpisce di testa e la sfera è sopra la traversa. Bello il colpo di testa di Viali, ma soprattutto bella l'intuizione di Orlando, che al volo di prima ha scodellato questo cross direttamente nel cuore dell'area di rigore avversaria. Telecamere sempre su Marcello Lippi, la tecnico viareggino di 46 anni, che tra l'altro nella scorsa stagione ha tolto tre punti a Mazzone quando era sulla panchina del Napoli. Ci fu un 3-2 in trasferta per il Napoli, un 1-1 in casa. Quindi una vittoria esterna del Napoli e poi il pareggio al San Paolo. Da Ferrara a Torricelli, ha spazio per avanzare. Abbastanza arretrato in questa fase Carboni. Viali, ancora Torricelli, recupero dello stesso Carboni. Retropassaggio per Petruzzi. Rotazione del pallone per Cappioli. Cappioli attaccato da Del Piero. Terna, tentativo di intervento ma a vuoto di Marocchi. In effetti è abbastanza comprensibile quella protesta alla parte di Mazzone, all'indirizzo di Cappioli, alla quale faceva riferimento Costa, perché è fondamentale che salgano in particolare i laterali Cappioli a destra e Carboni a sinistra, perché la Roma possa riacquistare più incisività in fase offensiva. Un'altra munizione intanto si aggiunge a quella precedente, che riguardava la Roma con Carboni, ed è per Torricelli. Abbiamo visto la ripetizione dell'intervento abbastanza pesante, in effetti da parte di Torricelli sullo stesso Carboni. E diventa sempre più interessante questo duello, ripetiamo, fra i due terzini che si oppongono laggiù sotto la tribuna. Tentativo di stop a seguire di Fonseca. Cappioli, un tiro direttamente al volo e il pallone alto. Altro collegamento a bordo campo, vai pure Franco Costa. Ecco, a proposito di Torricelli, tra l'altro mi pare, se ricordo bene, che la sua posizione originaria, quando è arrivato all'Univento, sarà proprio quella di terzino fluidificante. In questa posizione, lui è sulla destra, ovviamente come hai detto tu, per bloccare Carboni, si sta esprimendo meglio. Lui poi ha giocato stopper, ha giocato libero, domenica Padova non è stato impeccabile, ed è ritornato praticamente sulla destra in questo suo ruolo con il quale si è rappresentato praticamente alla Juventus. È una bella partita, c'è poco pubblico, circa 4.000 spettatori mal contati. Questo ha indotto la Juventus, l'amministratore delegato Giraudo, a negare l'autorizzazione per trasmettere la partita in telecronica diretta anche nella zona di Torino. E questo ci dispiace per i tifosi della Juventus che abitano in zona. Ma sono 3-4.000 spettatori in tutto. Questo mi è stato riferito a questo delico che restituisco la linea. Attacca intanto la Roma, siamo arrivati alla mezz'ora di questa partita, sempre con la Juventus in vantaggio per 1-0, rete segnata da Vialli al 22esimo. Petruzzi, il suo diagonale per Terna, è affrontato da Marocchi. Ancora un lancio verso Fonseca, ribatte Ferrara. Ferrara e Fonseca che nella scorsa stagione erano compagni di squadra con la maglia del Napoli. e nel Napoli c'era anche un panchina, l'avevamo detto qualche istante fa, il tecnico bianconero Marcello Lippi. Con i piedi Perruzzi, il libero a Carrera. Fa viaggiare la palla in direzione di Porrini. D'esterno molto bene Del Piero, c'è il triangolo. Ottimo il recupero da parte di Petruzzi. Lanna. Dall'altra parte Carboni. Ancora Petruzzi. Giannini. Passaggio sbagliato in direzione di Balbo. Recupero della palla di Giannini, ma intanto l'arbitro aveva ravvisato una scorrettezza giallorossa. Vedete il richiamo soltanto verbale dell'arbitro all'indirizzo di Balbo, mentre, rimarchiamo, ci sono due ammoniti, uno per parte, Carboni e Torricelli per il momento. Ancora Torricelli, Ravanelli. All'indietro per Ferrara. Sempre all'indietro per Carrera. Lunga rotazione del pallone, questo avviene sia da una parte che dall'altra per cercare qualche buco, qualche spiraglio sul fronte offensivo. Adesso cambia gioco con un'apertura precisa Orlando in direzione di Torricelli. Il cross. Il pallone colpito di testa da Piacentini. Il duello Cappioli del Piero. Ancora Cappioli. C'è il raddoppio di marcatura bianconero in una zona d'attacco e il pallone che va fuori con la rimessa dal fondo romanista. Gianluca Vialli, ribadiamo, altro gol, esattamente il sesto nella stagione dopo il quattro in campionato e quello segnato in Coppa Italia. Vialli che ha un po' infierito in questa stagione contro la Reggiana perché in campionato ha segnato due gol proprio contro la Reggiana e contro la Reggiana ha segnato anche in Coppa Italia. Vialli che insegue il centesimo gol in Serie A è arrivato a quota 99. Un'infrazione commessa da Ravanelli sull'Anna calcio di punizione per la Roma. Mette giù il pallone Giannini. Cappioli davanti a Lucio Orlando si accentra Fonseca dribbling di Fonseca Balbo e il tiro con la palla che è terminata sopra la traversa. Un bel guizzo da parte dei due giocatori d'attacco della Roma grande intesa sempre fra i due sfoggiata soprattutto in campionato. Il dribbling di Fonseca e la conclusione di Abel Balbo. Per lui nella stagione otto gol insegue a quota 13 Battistuta in a campionato. Balbo che al sesto campionato italiano ha segnato pensate per il momento ed è un giocatore del quale non si è parlato molto nelle scorse stagioni 85 gol 65 nell'Udinese e per il momento 20 nella Roma. Adesso la punizione bianconera siamo arrivati al trentatresimo del primo tempo mette giù il pallone Marocchi Del Piero Del Piero contro Piacentini si fa largo triangolazione ribatte Annoni la sponda era di Vialli retropassaggio di Sousa Ferrera Torricelli ancora Vialli Marocchi Vialli il tiro che è stato deviato pallone che viaggia va a battere proprio contro la bandierina e il corner bianconero dopo 11 giornate di campionato per il momento troviamo la Juventus a seconda in classifica con 23 punti e la Roma invece è quinta quota 20 domenica Juve Fiorentina e Roma Padova il corner battuto riuscita soltanto accennata da Cervone pallone alzato da Cappioli al volo Sousa al volo Carrera si alza la bandierina del guardaline e c'era uno dei tre attaccanti bianconeri più probabilmente Ravanelli che non Vialli in posizione di fuori gioco in panchina Carlo Mazzone il tecnico romano di 57 anni da 20 anni in panchina tra serie A e serie B insegue quello che potrebbe essere il miglior piazzamento della sua carriera vedremo se riuscirà a battere il terzo posto tenuto con la Fiorentina nel 77 manticebo di Torricelli Ravanelli partenza di Vialli ancora Ravanelli azioni di sfondamento il tiro di Ravanelli Cervone Vialli posizione regolare gol la rete ancora della Juventus Cervone ha fatto veramente quello che ha potuto sul tiro di Ravanelli non è riuscito a trattenere il pallone e c'è quindi il raddoppio la doppietta di Vialli esattamente alla 35esimo c'è spazio ancora per un collegamento a bordo campo vediamo la reazione della panchina bianconera vai pure Franco Costa c'è stata una grossa esultanza da parte di Lippi anche perché c'è questa collaborazione Vialli Ravanelli praticamente Ravanelli ha istituito a Vialli il favore che gli era stato fatto a Padova questo tiro di Ravanelli questa conclusione di Vialli qualche volta non mi riescono bene le parole perché qui fa freddo la bocca si restringe ti restituiscono la linea in effetti è una serata freddissima quella qui dello stadio delle Alpi di Torino che ha scoraggiato anche questo è il motivo la gente a venire qui sugli spatti ma quella che c'è fa molto baccano molto tifo ripetiamo dunque Juventus 2 Roma 0 36esimo minuto del primo tempo le reti tutte e due di Vialli 22esimo e 34esimo passaggio indietro di Petruzzi per Cervone ancora Petruzzi l'aggiramento da parte della giovane Petruzzi e danni di Orlando Lanna Giannini apertura per Carboni un rifornimento profondo per Balbo lo scatto di Balbo inseguito da Porrini quasi sulla linea di fondo ancora Balbo destermo per Piacentini il suo duello con Carrera terminano a terra sia Carrera sia Piacentini e vediamo la decisione dell'arbitro punizione bianconera in pratica è stata già calciata con i piedi da Peruzzi la pallone che rimane nella zona di Orlando cambia gioco dalla parte di Ferrara Torricelli Sousa giudiaconale per Marocchi Orlando proprio davanti alla panchina di Lippi l'appoggio per Marocchi Marocchi contro Piacentini Vialli un tiro dalla lunga distanza e la parata di Cerbone è realmente un ottimo momento per Gianluca Vialli l'aveva già dimostrato anche lontano dal gol con tutto il lavoro compiuto a beneficio in altre partite di Ravanelli e di Baggio adesso sta ritrovando la via della rete con una certa frequenza e questo naturalmente diventa anche abbastanza interessante in chiave azzurra Del Piero la sua combinazione con Porrini Del Piero pallone che è stato toccato da Balbo retropassaggio di Giannini Annoni rotazione per pallone da parte di Annoni per Petruzio l'ha messo un po' in difficoltà la Roma deve cercare di salire con gli esterni se vuole ribaltare le sorti della partita perché in particolare è molto arretrata crediamo la posizione di Carboni dalla parte di Torricelli Carboni è un giocatore fondamentale per quanto riguarda gli schemi offensivi della Roma e slancio in più ha avuto sotto la tribuna centrale invece Cappioli nella zona di Orlando un bel anticipo di Piacentini c'è del pallone a Terna l'apertura ancora per Carboni vedete quasi sempre nella sua metà capo almeno in questi ultimi 15-20 minuti avanza Terna l'anticipo da parte di un giocatore bianconero Orlando avanza Del Piero azione profonda verticale di Del Piero è tallonato da Piacentini un lancio per Orlando al volo di testa Vialli si è avventato sul pallone ancora di testa e ha sfiorato il terzo gol bello il colpo di testa di Vialli ma era stata molto bella anche tutta l'azione personale di Del Piero e la precisione del passaggio per Orlando vedete che anche in questo caso si nota la posizione molto avanzata degli esterni bianconeri adesso Orlando che è giunto puntualmente al cross su oppositore ripetiamo e Cappioli indubbiamente se nella Roma ci fosse stato questa sera Moriero Orlando sarebbe stato costretto a un lavoro maggiormente difensivo ma per l'assenza di Moriero e di Aldair nella Roma ci sono le tante assenze nella Juventus come detto quelle di Fusi di Colera di Conte di Livio e di Baggio oltre a Tacchinardi è fallo commesso da Marocchi in direzione in opposizione a Cappioli pallone messo giù da Annoni vediamo questo calcio di punizione della Roma quando siamo arrivati al 39esimo minuto del primo tempo il controllo di Fonseca spalla alla porta tentato il servizio all'indietro per Giannini Annoni pallone sfiorato da Del Piero arriva Fonseca la rispinta di Carrera Sousa ancora 5 minuti alla fine di questo primo tempo nel quale la Juventus sta vincendo la partita con le due reti realizzate da Vialli al 22esimo e al 34esimo Orlando profondità per Del Piero ancora l'indietro questa volta in direzione di Orlando il lancio per Vialli inseguono il pallone anche Annoni e Petruzzi colpo di tacco di Vialli a smarcare Del Piero una serie di finezze da parte degli attaccanti bianconeri che stanno attraversando ripetiamo in generale un ottimo momento in particolare un bel momento in questa partita l'appoggio di Annoni Giannini davanti Luice Marocchi dall'altra parte Carboni Terna il lancio per Fonseca Ferrara su Fonseca lo scatto dell'attaccante Oroguaggio e l'intervento da parte di Ferrara restano a terra tutte e due sembrava avere l'appeggio Fonseca sul quale forse ci poteva essere anche fallo invece vedete che quello che forse ha avuto qualche conseguenza in più è Ferrara comunque mi pare che l'intervento di Ferrara sia stato pulito sul pallone controllo di Terna si alza la bandierina del guardaline e l'arbitro se ne ha veduto adesso e il gioco viene fermato posizione di offside per i giocatori della Roma siamo arrivati al quarantonesimo minuto di questo primo tempo sempre Juventus in vantaggio per 2-0 che sta amministrando la partita il lancio per Vialli di testa per Del Piero e c'è ancora l'interruzione di gioco da parte dell'arbitro mi chiede la linea Franco Costa a bordo campo vai pure si vuole segnalarti non la Juventus molto ben messa tatticamente molto disciplinata la prova di Del Piero a tutto campo direi che davvero una prova notevole sa che Del Piero ha testato qualche perplessità in Lippi tanto che a un certo punto l'aveva escluso la squadra ora si è ripreso benissimo è attento ma soprattutto è molto generoso molto efficace che restituiscono la linea vediamo intanto la Roma che cerca l'offensiva in quest'ultima parte del primo tempo con un pallone nella zona di Fonseca ancora la ribattuta di Ferrara pallone mantenuto in campo da Del Piero Sousa Ravanelli ancora Sousa profondità tagliare il campo per Orlando tutto di prima Del Piero con i piedi Cervone ottima scelta di tempo nell'uscita di Cervone su un'altra bella azione da parte della Juventus è chiaro che adesso tatticamente la partita è difficile per la Roma perché gli spazi larghi le ha la formazione di Lippi mentre invece la Roma non riesce a crearli a beneficio delle due punte Fonseca e Balbo punte che formano quello che da Peruzzi è stato considerato per il momento forse l'attacco più forte del mondo una coppa offensiva veramente eccezionale che però naturalmente colpisce soprattutto in spazi larghi e la Juventus li sta presidiando bene questa sera Lanna Piacentini all'indietro Petruzzi ancora all'indietro per Cervone sempre con i piedi Petruzzi qualche rischio poi se la cavano bene i difensori di Mazzone Petruzzi per Giannini un bel rifornimento per Carboni chiede la palla a Cappioli lungo il lancio per Fonseca di testa Carrera riparte la Juventus Torricelli Marocchi pallone intercettato da Terna capovolgimento di fronte si alza la bandierina è scatto in posizione di fuori gioco Fonseca che però vedete non è del tutto d'accordo con il guardalina questa inquadratura è stretta naturalmente non ci consente di capire se effettivamente Fonseca era in posizione irregolare comunque si continua a giocare immagini in diretta e si ricomincia con Marocchi Sousa apertura per Torricelli ancora l'invietro per Ferrara io non so se Franco Costa alla fine del primo tempo avrà la possibilità di avvicinare qualcuno facciamo un tentativo brevissimo prima di ripassare la linea a Roma intanto il lancio di Orlando la sponda di Ravanelli direzione di Del Piero Giannini ha ricoprato palla da Petruzzi Balbo in caccetta al pollone del Piero Marocchi la sovrapposizione intanto di Ravanelli sempre Marocchi profondità per Vialli e c'è l'intervento di Lanna continuano questi scambi da parte di Lanna e Annoni nella marcatura di Vialli e Ravanelli non c'è ripetiamo una marcatura costante se fra i due ci sono stati continui incroci d'altro canto di Vialli e Ravanelli fin dall'inizio della partita e questa è un po' la caratteristica della Juventus di quest'anno che azzarda sì le tre punte ma con grande turbion grande movimento in particolare proprio di Vialli e Ravanelli per mettere in difficoltà i marcatori avversari calcio di punizione quando siamo arrivati ormai a 10 secondi dalla fine del primo tempo sempre con la Juventus in vantaggio per 2 a 0 doppietta di Vialli 22esimo 34esimo dopo la ripetizione dell'episodio immagini in diretta sul pallone ci sono Ravanelli e Ferrara si è portato in barriera a Marocchi anche Porrini giocatore più avanzato è Vialli la finta di Ravanelli il tiro ribatte la barriera aveva tentato un pallonetto verso la porta ancora Ferrara Orlando il traversone e la rispinta di Lanna il traversone che era in direzione di Ravanelli Gli ultimi spiccioli di questo primo tempo un altro calcio d'angolo per la Juventus per il momento per quanto concerne i cartellini gialli in questa partita una munizione per Carboni e l'altra per Torricelli una per parte dalla bandierina ancora Orlando la solita battuta di sinistro al volo Ferrara Del Piero ancora al volo e il pallone che termina sopra la traversa non sappiamo se abbia tentato il tiro direttamente in porta forse un pallonetto verso l'incrocio dei palli o un assist per i compagni Cervone intanto segue gli sviluppi di quello che potrebbe essere l'ultimo attacco del primo tempo da parte della Roma Lanna davanti a lui Vialli l'appoggio per Giannini Fonseca il ripiegamento di Vialli su Fonseca ancora un passaggio all'indietro per Terna adesso in avanti ci sono Fonseca Balbo e Cappioli e poi c'è questo anticipo di Torricelli sull'avanzata di Lanna un po' sguarnita adesso la difesa della Roma cerca di approfittarne la Juventus ma c'è un buon recupero dei centrocampisti di Mazzone Giannini la sua solita posizione ripetiamo davanti a Libero Petruzzi e ai due stopper Piacentini profondità per Fonseca l'anticipo di Porrini riparte Sosa Del Piero parte da tre quarti di campo punto all'uomo e poi c'è il buon intervento difensivo di Petruzzi Cappioli Cappioli ha qualche difficoltà a servire ai compagni perché non c'era molto smarcamento senza palla da parte dei compagni da Piacentini a Fonseca ha cercato il pallonetto su Porrini e c'è un fallo commesso proprio da Porrini su Fonseca vedete in alto a sinistra il tempo due minuti e mezzo di recupero in questo primo tempo l'intervento di Porrini mentre Fonseca già era praticamente riuscito a scavarcarlo con un pallonetto rimane lontano dall'area di rigore Fonseca pronto proprio alla battuta mentre in area di rigore si sono portati Cappioli e Balbo Fonseca il tocco all'indietro Carboni calcia di sinistro ribatte Viali Annoni Lanna arriva il fischio finale del primo tempo vai pure Costa secondo tempo di Juventus Roma gara di andata valevole per i quarti di finale di Coppa Italia queste immagini si riferiscono alla primo minuto dieci secondi di gara nella ripresa il punteggio è invariato sempre Juventus 2 Roma 0 con una doppietta di Viali diretti al 22esimo e al 34esimo del primo tempo andiamo subito in appresa diretta mentre vi confermiamo le formazioni del primo tempo passaggio all'indietro di Terna per Lanna Balbo è talonato da Marocchi Terna su duello con Viali da Piacentini all'indietro per il libero Petruzzi avanza Lanna Piacentini dopo l'indietro di Piacentini per Petruzzi è stato un contrasto proprio fra Carboli per l'esattezza non Piacentini e Viali di testa Carrera Ferrara Torricelli bilancio profondo per Viali che scatta e poi spazza via il pallone rischiando anche di uccidere qualche giocatore della Roma in panchina Petruzzi colpo di testa Viali Piacentini fa viaggiare Cappioli l'apertura per Annoni il suo sganciamento dall'elettrovia in seguito da Ravanelli mette in mezzo il pallone in qualche modo Annoni che aveva evitato l'intervento in tec al scivolato di Ravanelli intanto si sta scaldando a bordo campo Tacchinardi che doveva essere impiegato fin dall'inizio di questa partita precauzionalmente è acciacchiato è stato lasciato fuori e gioca con il numero 8 Marocchi le formazioni sono le stesse del primo tempo e cioè Juventus con Peruzzi Ferrara Orlando Carrera Porrini Sosa Torricelli Marocchi Vialli Del Piero e Ravanelli la Roma risponde con Cervone Cervone Annoni Lanna Piacentini Petruzzi Carboni e Cappioli Terna Balbo Giannini e Conseca in panchina per la Juventus Rampulla Iarni Tacchinardi Tognone Grappi per la Roma invece Lorieri Colonnese Benedetti Maini e Totti passaggio indietro di Cappioli per Annoni Ancora Annoni Adesso c'è Del Piero di mettere in movimento Balbo rovesciata di Vialli la recupera ancora da parte dei romanisti con Piacentini Giallorossi in attacco in a questo avvio di ripresa nel tentativo di dimezzare le distanze rispetto alla Juventus avanti di due gol il contropiede di Ravanelli cerca di lanciare Vialli tocco per Sousa Del Piero ha superato Cappioli e poi c'è l'intervento scorretto di Annoni su di lui fallo di Annoni su Del Piero nel primo tempo c'erano state due ammunizioni una per parte Torricelli nella Juventus e Carbone dall'altra parte nelle file della Roma abbiamo rivisto l'episodio era andato via molto bene in un primo tempo Del Piero e poi è stato appunto fermato fallosamente da Annoni tentativo di lancio di Vialli per Del Piero copre bene questa volta la difesa romanista con Petruzzi Juventus molto pratica nel primo tempo è stato detto nell'intervallo tre occasioni due gol buona soprattutto l'intesa degli avanti e cioè Vialli Del Piero Ravanelli ma anche la crescita di Sousa in mezzo al campo e di Orlando sulla fascia sinistra per la Roma come diceva Lorieri forse un calo di tensione dopo il derby nel quale la tensione agonistica della squadra era stata veramente eccezionale roba che deve trovare un po' più di creatività centro campo per colmare la frattura fra la mediana e il fortissimo attacco formato da Balbo e Fonseca bilancio di Annoni per Balbo di testa ottima era stata l'intuizione di Balbo per poco non arrivava sul pallone proprio Ponseca di testa Sousa anticipo di Terna entrata di Carrera rispinta di Ferrara per Del Piero Del Piero ha fatto in questa partita più che altro il centrocampista puro alle spalle delle punte e ha consentito a Vialli rispetto a quando gioca con il Tredente Baggio di occupare sovente una posizione più centrale Vialli si è trovato quindi più frequentemente alla possibilità di concludere infatti in altre partite non ricordiamo mai in un tempo in 45 minuti tre conclusioni a rete di Vialli la prima è stata parata da Cervone le altre due sono finite in rete al 22esimo e al 34esimo un altro segnale del crescendo di condizioni da parte di Vialli questa volta ormai inequivochiabile Orlando il lancio per Marocchi Marocchi contro Annoni cerca spazio e l'entrata è puntuale da parte di Annoni con la respinta in fallo laterale ripetiamo per quanto riguarda Annoni che domenica scorsa era stato lasciato fuori nel derby aveva giocato solo l'ultima parte dell'incontro nella ripresa a 25 minuti circa in luogo di Moriero l'apertura di Sousa Torricelli davanti a lui c'è Giannini Ferrara pallone che non raggiunge Marocchi libero Petruzzi Terna diagonale per Giannini e c'è un fallo commesso da Ferrara su Fonseca fallo commesso prima ancora che il pallone raggiungesse l'attaccante uruguayano e lo stesso viagli a depositare il pallone dove deve essere battuto il calcio di punizione Giannini ancora l'indietro per il numero 5 Petruzzi a girare il pallone verso Annoni davanti a lui c'è Del Piero e la respinta di Del Piero con il pallone che viaggia sulla linea del fallo laterale e finisce fuori Cappioli Terna sul 2-0 naturalmente la Juventus aspetta collettivamente la Roma nella sua metà campo diventa molto difficile per la Roma attaccare in spazi larghi una Roma quindi che non può ripetere il copione del derby contro la Lazio in cui aveva creato questi spazi a beneficio delle punte di Moriero Orlando cercava di superare Piacentini che lo ha fermato Terna è pallonato da Ravanelli sempre Terna mantiene bene il pallone e quindi lo fa viaggiare per Balbo Balbo costretto ad arretrare per recuperare questo pallone proprio nel cuore del centro campo Annoni Terna Fonseca bilancio di sinistro molto buono per Balbo il duello di testa ancora Balbo il cross la rispinta di Peruzzi anticipato Giannini un'occasione per la Roma proprio in avvio di questo secondo tempo siamo nell'arco dei primi dieci minuti di gara esattamente al settimo di testa Petruzzi Carboni Carboni che va via Ravanelli di potenza Balbo il dribbling e poi c'è un fallo commesso da Torricelli Roma naturalmente sta tentando di recuperare la stessa determinazione del derby ma vedete ripetiamo non è facile proprio quello schieramento difensivo del Roma e intanto c'è un cartellino rosso da parte dell'arbitro evidentemente seconda munizione ai danni di Carboni che era stato già ammonito e quindi espulsione le proteste di Carboni adesso rivedremo l'episodio Carboni che era stato ripetiamo già ammonito nel primo tempo e vediamo l'episodio del fallo fra qualche istante mentre protesta Giannini all'indirizzo dell'arbitro Ceccherini pensiamo proprio che sia doppia munizione per il giocatore della Roma cioè che non sia stato espulso unicamente per questo fallo ma per la somma dei cartelli iniziali ripetiamo tutto questo all'ottavo minuto nono minuto del secondo tempo e rimandiamo la ripetizione adesso per la Roma la partita diventa veramente difficile tutta in salita perché al di là dei due gol di scarto bisogna aggiungere l'inferiorità numerica 10 contro 11 posizione battuta da Ferrara Carrera Sousa Marocchi adesso è affrontato da Giannini vanno indietro Ferrara con il rilancio di Carrera recupero di Piacentini per Terna il tocco di prima di Balbo Cappioli è andato a vuoto in un primo tempo Porrini Sousa il lancio di Del Piero che è stato intercettato da Piacentini vedete la bandierina azzata del guardaline e quindi la rimessa laterale bianconera Ferrara ancora indietro per il libero Carrera di testa Orlando Marocchi che è affrontato da Terna Sousa profondità ancora per Ravanelli ha soltanto sfiorato il pallone che stava per raggiungere Torricelli Carboni era proprio l'oppositore di Torricelli sulla fascia sinistra adesso vedremo quali saranno gli arrangiamenti della difesa della Roma probabilmente Mazzone rinuncia a quelle due marcatura uomo quelle di Annoni e Lanna lascia in mezzo alla difesa Annoni e Petruzzi e porta Lanna a sinistra quindi dovrebbe essere una Roma sistemata diversamente anche parzialmente a zona in questa ripresa per ovviare all'inferiorità numerica comunque staremo a vedere gli sviluppi anche poi con i contributi da bordo campo di Franco Costa siamo arrivati all'undicesimo minuto del secondo tempo dunque Roma in dieci contro undici espulsione di Carboni e sotto di due gol l'avanza del Piero pallone toccato deviato Piacentini Lanna passaggio per Giannini ancora l'indietro per Petruzzi di testa all'indietro Balbo arriva Annoni tentativo di dribbling cercava il servizio ma senza esito sulla destra per Fonseca da Carrera a Ferrara Torricelli Ferrara ancora un lancio in direzione di Vialli lo stacco verso Ravanelli di testa anche Sosa insegue il pallone Cappioli lo recupera Orlando un lancio per Vialli ancora di testa azione acrobatica della Juventus l'ultima conclusione sempre aerea è stata di Del Piero intanto riparte ancora la Juventus sempre di prima e c'è l'uscita di Cerbone i bianconeri che naturalmente cercano di approfittare di questa situazione di questa superiorità numerica e soprattutto del momento un po' di sbandamento psicologico comprensibile della squadra di Mazzone intervento falloso intanto al centrocampo di Sosa su Terna Balbo Giannini un antecepo di Porrini Vialli molto arretrato Sosa dribbling lo ha piazzato e la portoghese a spese di Terna lancia Ravanelli posizione regolare in area Ravanelli il tiro e la palla è sull'esterno della rete per favizio Ravanelli per il momento 12 gol nella stagione precisamente con due reti in campionato due in Coppa Italia la bellezza di otto reti in Coppa UEFA anche Ravanelli rivetiamo è protagonista di questo buon momento della Juventus abbiamo visto il suo tiro sull'esterno della rete e dobbiamo ancora una volta rimarcare nel primo tempo la buona intesa tante combinazioni di prima che è stata dimostrata proprio dal tridente bianconero del Piero Ravanelli Viali addirittura autore di una doppietta sempre Ravanelli adesso posizione un po' più arretrata cerca di far viaggiare Del Piero e chiude molto bene l'Anna Giannini ferma la palla Cappioli Cappioli contro Marocchi Balbo adesso affrontato da Porrini vedete non è riuscito a servire all'indietro Giannini momento difficile per la Roma si alza la bandierina del guardarini e posizione effettivamente di fuori gioco di Ravanelli vediamo quali sono le reazioni in particolare della panchina della Roma Mazzone sempre in piedi davanti alla panchina stessa vai Franco Costa Mazzone sta parlando ripetutamente urlando ripetutamente con Giannini per trovargli la posizione Giannini vorrebbe avanzare ma Mazzone ecco stanno proprio adesso dialogando Mazzone lo frena perché tengo la posizione più arretrata copertura di Del Piero chiaramente la difesa della Roma in questo momento è in affanno nella zona precedente Ravanelli doveva dare palla a Marocchi che gliela ha chiesto ma ha voluto tirare e ha calciato fuori adesso c'è Ferrara in area ti restituisco la linea intanto abbiamo visto la ripetizione dell'ultimo episodio l'impatto lo scontro che c'è stato fra Ferrara e Cappioli tuttavia non mi è sembrato intervento falloso né da una parte né dall'altra tutte e due cercavano il pallone e si sono realizzati entrambi dicevamo qualche istante fa di Mazzone in piedi davanti alla panchina avete visto la sua faccia ovviamente non può essere soddisfatta quando siamo arrivati alla quarto d'ora del secondo tempo sempre Juventus 2 Roma 0 con una doppietta di Viali 22esimo 34esimo del primo tempo il lancio di Ferrara di testa Lanna di tacco ha colpito pallone Terna Giacentini in verticale verso Balbo Balbo contro Carrera un cross per Fonseca leggermente lungo controlla comunque il pallone Fonseca arriva Giannini Fonseca all'indietro per Terna pallone troppo arretrato la tentazione di Del Piero era stata quella di partire subito in contropiede si è fermato lavoro al pallone adesso Viale Marocchi intanto c'è un lancio per Orlando smarcato ma intuisce tutto in difesa Annoni Giannini punta Sousa e l'intervento è scorretto da parte di Sousa punizione già battuta Terna adesso è Del Piero su Terna l'esterno per Piacentini smarcato Balbo cerca di infilarsi fra Torricelli e Ravanelli ma gli ruba il pallone Ravanelli azione di rimessa Sousa Juventus in avanti soltanto con Viali per il momento dall'altra parte intanto sta salendo Orlando e la doppia di marcatura è evitato da Viali Viali che conferma anche in queste giocate la sua bella la sua buona condizione professione da tre quarti direttamente dai piedi di Orlando e testa Lanna lo stop di Ravanelli cerca di evitare Terna Marocchi pallone allungato quel tanto che basta da Giannini cerca di riordinare le idee la Roma in questa parte seconda della partita in questa ripresa vedete l'impostazione adesso di Balbo Piacentini il lancio e il pallone che supera Carrera ma viene recuperato da Peruzzi per quello che vediamo naturalmente ci sono diversi sviluppi tattici in a campo e Piacentini il giocatore che cerca ogni tanto affrancandosi liberandosi dal controllo di Del Piero di andare sulla fascia sinistra e surrogare quella che era l'azione precedentemente di Carbone controllo di Sousa ha evitato Capioli intanto si smarca Torricelli cerca logicamente di approfittare di questa parziale libertà ancora Ferrara di testa del Piero Sousa Torricelli ma intanto il gioco è stato fermato dall'arbitro per un fallo commesso da Piacentini su Sousa ancora la Juventus Torricelli il cross uscita di Cerbone naturalmente con una certa frequenza i giocatori della Juventus cercano proprio di mettere in movimento adesso Torricelli approfittando di questa libertà per la mancanza di Carbone che è stato espulso rilancio di Porrini commette un grosso errore si alza la banderina però del Guardalina era riuscito Balbo a colpire il pallone e il pallone era giunto a Fonseca però in posizione di offside era praticamente solo davanti a Peruzio sempre 2-0 per la Juventus sulla Roma e siamo al diciottesimo minuto del secondo tempo Marocchi il tocco per Torricelli corre in avanti lungo la linea del fallo laterale per Ravanelli Torricelli a spasso per il campo senza l'avversario Carboni Sousa la rispinta di Petruzzi sempre Torricelli affonda dribbling e poi l'ultimo a colpire la palla un intervento efficace quasi miracoloso decisivo comunque di Lanna perché Torricelli si stava involando verso la porta rettropassaggio di Ferrara il libero Carrera attaccato da Fonseca con i piedi Peruzzi testa terna la Roma non si arrende in questo secondo tempo nonostante lo svantaggio nonostante l'inferiorità numerica ma è chiaro partita che è diventata tatticamente difficilissima contropiede di Vialli e il recupero di Annoni libertà per Giannini adesso davanti ci sono Balbo naturalmente Fonseca e anche Cappioli il paleggio di Balbo arriva come vedete posizione centrale Cappioli è centrato Fonseca il cross e la deviazione in calcio d'angolo di Ferrara però Ciro Ferrara questa partita è una partita naturalmente all'insegna di vecchi sentimenti e anche rimarcata dalla presenza di giocatori che erano nel Napoli nella scorsa stagione su tutti Fonseca al di là della presenza di Lippi in panchina intanto per quanto riguarda le sostituzioni c'è sempre attacchi nerdi che si scalda ma la prima sostituzione è romanista infatti esce dal campo Otterna ed entra in campo un giocatore trequartista con grande fiuto del gol e cioè il giovanissimo Totti intanto c'è la respinta da parte di Marocchi Vialli all'indietro per Del Piero ancora Vialli Ferrara Vialli l'intervento sul pallone proprio di Totti che si è piazzato alle spalle delle punte Fonseca e Balbo nonostante che la Roma sia in 10 contro 11 Mazzone cerca di giocare la carta del coraggio e manda in campo quindi la terza punta ripetiamo Totti non è una punta pura però è un giocatore che segna parecchio con i suoi appena 18 anni tre gol in questa stagione uno in campionato con il Foggia e due in Coppa Italia con il Fiorenzuola e con il Genoa e vediamo dunque quello che succede con Totti in campo altro giovanissimo estremamente interessante nella ripresa di testa Ravanelli recupero del libero Petruzzi profondità per Fonseca passaggio all'indietro per Carrera l'anna su Ravanelli il pallone che va fuori proprio davanti a Mazzone la rimessa in gioco di Piacentini il nuovo entrato Totti l'anno indietro per Piacentini e c'è un fallo commesso proprio su Totti commigione battuta il pallone lavorato da Giannini Cappioli ripiegamento di Ravanelli e di Sosa messo in movimento Orlando lancio un po' troppo largo per Vialli che consente crediamo il recupero di Piacentini lascia scorrere il pallone rimessa infatti per la Roma dopo 21 minuti di questo secondo tempo da Totti allo stesso Piacentini Giannini ancora Totti cambia gioco per Annoni l'inserimento di Annoni che ha evitato l'entrata di Sosa poi c'è la respinta di Orlando pallone troppo lungo per il portoghese ma pallone che rimane in campo Giannini e rubato il pallone Ravanelli ancora Ravanelli soffiato un pallone importante a Giannini cerca di infilarsi ancora in zona offensiva passaggio a Del Piero il tiro la respinta di Cervone un grande intervento in uscita di Cervone sul tentativo di Del Piero per Giovanni Cervone sicuramente una stagione magica è la sesta nella Roma senza altro tutti sono d'accordo su questo la migliore da quando veste la maglia giallorossa intanto esce dalla retrovia l'Anna la Roma nonostante l'inferiorità numerica ritrova gli stimoli l'orgoglio e nel questo secondo tempo cerca di sovvertire le sorti della partita profondità Balbo pallonetto Peruzzi che respinge un tentativo di Balbo adesso l'inseguimento di Totti la rimessa ancora da parte di Totti la Roma che rimane per il momento in fase offensiva metà campo bianconera Giannini Totti il cross direttamente di sinistro ancora di testa Balbo ma il pollone troppo lungo per Fonseca siamo arrivati alla ventitresimo minuto di questo secondo tempo e intanto vediamo la ripetizione dell'episodio precedente quello nel quale la Juventus aveva cercato la via della rete con Del Piero Del Piero era stato molto bravo a resistere alla carica degli avversari a calciare altrettanto bravo efficace in questa parata Cervone che ormai non stupisce più per questi suoi interventi aveva compiuto uno risolutivo nel primo tempo proprio nei primi minuti su colpo di testa di Viali Petruzzi e si mette un po' nei pasticci sul pressing di Viali che infatti recupera il pallone tira ed è fuori ha visto in effetti fuori dai pali la portiera della Roma Cervone ha tentato il pallonetto per così dire alla Maradona da tre quarti di campo egli è andata male ma neanche di molto rivediamo l'errore di Petruzzi il pallonetto cercato da Viali in effetti vedete Cervone è molto avanti rispetto alla linea di porta il pallone che è finito fuori fuori per quello che abbiamo visto comunque di un 5-6 metri in effetti avviene un'altra sostituzione nelle file della Roma esce dal campo Cappioli ed entra il numero 15 Maini Maini è una centrocampista di caratteristiche offensive quindi confermiamo Mazzone e Mazzone comunque tenta il tutto per tutto nonostante questa inferiorità numerica della Roma Roma quindi che non ha la minima intenzione di proteggere lo 0-2 pensando poi a una grande rimonta all'Olimpico vuole cercare di dimezzare lo svantaggio già questa sera a Torino intanto il pallone viene recuperato da Del Piero si era centrato Viali ma non ha ricevuto ancora un passaggio all'indietro un po' avventuroso di Petruzzi che ha messo ancora una volta in difficoltà Cerbò Ravanelli il traversone dall'altra parte il primo pallone che è stato colpito di testa da Maini se ne va via adesso Giannini ancora Maini e poi c'è il suo contrasto con Marocchi è riuscito a recuperare il pallone evitando la rimessa laterale giallo-rossa Orlando in campo Gian Piero Maini che è un centrocampista di 23 anni il quale nella scorsa stagione era stato prestato dalla Roma all'Ascoli aveva giocato nell'Ascoli 29 partite realizzando tra l'altro 6 gol aveva giocato anche per un certo periodo nella nazionale under 21 di Cesare Maldini intanto c'è un calcio di punizione bianco-nero pallo ravvisato da Ceccarini sul pallone del Piero Sousa Sousa contro Maini Vialli profondità per Ravanelli è ancora un'altra grande parata di Cervone ma si continua a giocare Ravanelli non ha avuto la potenza necessaria per girare il pallone in rete era già capitata un'occasione simile a Ravanelli in occasione della trasferta della Juventus a Vienna ha tentato la girata però un po' fiaca e naturalmente i giocatori della Roma hanno potuto rispingere davanti alla linea di porta e comunque un secondo tempo tutto da seguire perché la Roma assolutamente non si arrende il suo atteggiamento è estremamente offensivo rispetto ai primi 45 minuti di gara un lancio per Fonseca Fonseca contro Carrera cerca di aggirare Carrera il cross e l'uscita ancora da parte di Peruzzi questa sera fra i pali sicuramente i due portieri più validi per quello che si è visto nelle prime battute del campionato quelli che hanno dimostrato il migliore condizione cioè proprio Peruzzi da una parte del Cervone dall'altra Sosa attaccato da Maini trova smarcato Torricelli il ripiegamento su di lui di Balbo Del Piero adesso è Giannini che deve cercare di inventarsi interditore per limitare il raggio d'azione proprio di Del Piero Marocchi ancora un'apertura per Orlando davanti a lui c'è Annoni il cross di testa Ravanelli e se azzata però la bandierina del Guardalina l'arbitro se n'è accorto quindi punizione per la Roma possibilità ancora di un collegamento a bordo campo con Costa vai pure siamo al 27esimo un po' di sfortuna un po' di sfortuna per Ravanelli che anche nell'occasione precedente comunque ha la possibilità di dare palla a Vialli Scusa Baggio non c'è Baggio è in tribuna Del Piero a facoltà ti lascio la linea però infatti c'è la Juventus in attacco un tentativo di passaggio di Vialli per Del Piero ancora per Vialli l'uscita di Cervone con i piedi ha triblato addirittura Vialli ha trovato il tempo giusto per anticipare l'attaccante bianconero e ancora la Juventus in attacco Marocchi Sousa Marocchi Sousa quasi al limite dell'area si fa vedere Ravanelli Sousa cerca spazio viene messo giù ed è calcio di punizione bianconero il fallo è stato di Totti su Sousa ma è pure su indicazione di Lippi Del Piero ha facoltà di girare per il campo come vuole dove vuole naturalmente è l'uomo più libero della Juventus dopo l'uscita di Carboni bello Mazzone perché quando i suoi hanno palla urla con cadenza sudamericana e dice non la perdere ti restituisco la linea non la perdere calcio di punizione per la Juventus dunque siamo arrivati al ventottesimo della ripresa sul pallone ci sono Del Piero e Ravanelli in barriera come al solito a disturbare Porrini il tiro di Ravanelli smorzato e poi ribatte Lanna adesso i tatticismi non sono più quelli del primo tempo la partita ha cambiato faccia perché nonostante questa inferiorità numerica la Roma ha in campo giocatori di spiccate professioni offensive ci sono le due punte Balbo e Fonseca a loro spalle Totti e poi un altro centrocampista di costruzione che è Maini la Juventus ha parecchi spazi per colpire di remessa cerca di approfittarne ma trova sulla sua strada uno splendido cervone rimessa in gioco di Piacentini Lanna il rifornimento per Balbo in questa carrera Sousa attaccato da Maini Sousa sempre più calato nella parte di playmaker della Juventus grande autorevolezza soprattutto nelle ultime partite che ha disputato precisamente in Austria a Vienna e a Padova con un tentativo bianconero da parte di Orlando 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 aveva tentato di avventarsi in area di rigore è stato fermato fallosamente e c'è calcio di punizione proprio al limite questo di calcio di punizione per la Juventus quando siamo arrivati proprio alla mezz'ora del secondo tempo sempre sul 2 a 0 le reti di Vialli 22esimo 34esimo del primo tempo Roma in 10 per l'espulsione in avvio di ripresa di Carboli per doppia munizione il tiro di Del Piero la respinta che è stata trovata da Balbo Carrera Torricelli Vialli Torricelli come al solito libero su questa fascia il cross pallone basso ribattuto di Petruzzi cerca di andarsene Fonseca faccia un intervento a gamba tesa da parte di Carrera che resta giù per il contrasto con Fonseca è stato molto brusco l'impatto fra i due giocatori in effetti ha rischiato parecchio Carrera con questa entrata alla fine ha rischiato lui di farsi male vedete il suo intervento in effetti schiaccia la palla verso terra entra altrettanto duramente Fonseca anche per difendersi dall'intervento dell'avversario Carrera comunque mi sembra che abbia ripreso la sua posizione in capo infatti è così è stato proprio Carrera a toccare il pallone su Fonseca Vialli Ravanelli Sousa contropiede bianconero adesso dalla parte di Orlando è il pallone il traversone di sinistro l'anticipo su Ravanelli il pallone che è stato toccato di testa per l'esattezza da Piacentini Roma sta raddoppiando le energie per cercare di sopperire a questa situazione difficile e per tentare di soccorrere le due punte Balbo e Fonseca questo è Totti all'indietro per Giannini cerca spazio adesso Piacentini sulla sinistra Giannini trova adesso Piacentini era la posizione di Carboni il cross il pallone che è stato deviato da Ferrara Piacentini continua per così dire a sdoppiarsi nella vesti ora di marcatore di Del Piero e ora invece di laterale sinistro dove operava il giocatore espulso intanto sta per avvenire un'altra sostituzione questa volta è della Juventus sta per entrare il numero 14 Tacchinardi calcio d'angolo per la Roma vicino la bandierina e Piacentini quando siamo al 32esimo di questa ripresa Piacentini di destro la parabola che è stata respinta intuita da Torricelli cerca di tenere il pallone in campo e ci riesce Del Piero la sua lunga volata Del Piero contro Giannini si accentra Del Piero Ravanelli davanti a lui c'è Annoni il pallonetto per Viali in area e ha tentato il pallonetto su Cervone ha tentato probabilmente la cosa più difficile la tentazione era stata quella del tiro al volo però ha rinunciato Viali forse avrebbe fatto meglio proprio a calciare di potenza ancora una volta si supera Cervone dall'altra parte la Roma il tentativo di Totti e la deviazione di Ferrara ripetiamo secondo tempo molto spettacolare perché non ci sono più tatticismi in campo a causa delle varie condizioni nelle quali si svolge questa partita prima fra tutti la necessità della Roma di rimontare abbinata al fatto che comunque la Roma è con un giocatore in meno e quindi lascia spazio alla Juventus vicino alla bandierina Fonseca e Totti la battuta di Fonseca e l'uscita di Peruzzi pallone troppo alto per Balbo e per Annoni dal momento resta ancora fuori Tacchinardi vai Costa lo sono dite che Tacchinardi era già pronto per la sostituzione dovrebbe sostituire Marocchi ma Lippia ha fermato due volte la sostituzione si prosegue con Marocchi in campo infatti vediamo che Tacchinardi ha rimesso il giubbotto Tacchinardi che si è scaldato per tutto questo secondo tempo l'apertura di Torricelli per Ravanelli ancora Torricelli davanti a lui c'è Lanna il tentativo di cross e la deviazione dello stesso Lanna adesso finalmente avviene io credo l'avvicennamento perché si è alzato il cartello da parte del cosiddetto quarto uomo Tacchinardi nuovamente senza giubbotto quindi pronto a entrare in campo ma il direttore di gara per il momento non se ne avvede esce dal campo Vialli vediamo quello che è no Vialli credeva di essere sostituito ma si è alzato il numero 8 come diceva Costa cioè in pratica numero 8 di Marocchi Vialli aveva visto un numero 9 e torna nella sua posizione ovviamente di centroavanti esce dunque Marocchi dentro Alessio Tacchinardi che a Vienne aveva sostituito di Livio attualmente infortunato e che ha giocato proprio 75 minuti con la Dumira e poi 90 minuti a Padova dalla bandierina del Piero uscita di Cervone e questa volta c'è fallo sicuramente sul Cervone commesso da Ravanelli e anche qualche scintilla fra Ravanelli e difensori della Roma comunque niente di grave si ricomincia con la punizione già battuta stretta di mano poi Cavalleresca di Ravanelli nei riguardi di Cervone Balbo arriva Noni ancora il triangolo largo per Balbo il pallone forse è già uscito prima dell'intervento di Carrera infatti è così si riprende con la rimessa laterale bianconera e siamo arrivati al 35esimo del secondo tempo sempre Juventus in vantaggio per 2 a 0 con la doppietta di Vialli nella primo tempo Vialli che è arrivato a quota 7 nei suoi gol stagionale nella Juventus il miglior cannoniere rimane Ravanelli a quota 12 poi c'è proprio Vialli che ha scavolcato Baggio Vialli 7 Baggio 6 alle spalle di tutti il libero Petruzzi Giannini Totti nel recupero di Torricelli Giannini avrebbe voluto naturalmente sostenere di più le punte avanzate in questo secondo tempo ma questa situazione 10 contro 11 ha costretto Amazzone a chiedergli il solito lavoro molto difensivo passaggio di Lanna che trova smarcato Piacentini Piacentini contro Ferrara il traversone l'uscita di Peruzzi è riuscito ad anticipare Balbo e anche Fonseca si è avventato con buona scelta di tempo Balbo pallone leggermente alto per lui e buona scelta di tempo ha avuto anche la rivediamo nell'uscita proprio Angelo Peruzzi torniamo con le immagini in diretta la Juventus all'impostazione Guerrera per Ferrara il nuovo entrato Tacchinardi ripetiamo Tacchinardi al posto di Marocchi Sousa Del Piero e poi c'è un intervento su Del Piero e precisamente di Petruzzi vedete ci sono due giocatori della Juventus a terra sia Sousa che Del Piero poi il cartellino giallo crediamo proprio all'indirizzo infatti è così di Petruzzi quindi altra munizione di Ceccarini ne abbiamo conteggiati almeno noi qui due per la Roma per Carboni per Petruzzi Carboni poi altra munizione è stato espulso all'inizio del secondo tempo invece per la Juventus il cartellino giallo all'indirizzo di Torricelli Tacchinardi Torricelli Ravanelli la rispinta di Piacentini ancora Ravanelli cerca di superare il numero 16 della Roma Totti e c'è un altro intervento falloso questa volta c'è soltanto un richiamo verbale di Ceccarini nei riguardi del giovanissimo attaccante trequartista della Roma mancano sette minuti alla fine di questa partita la battuta di Sosa lo stop elegante di Del Piero contro di lui c'è Annoni Orlando profondità per Ravanelli Ravanelli contro Petruzzi e c'è la respinta del libero a parte un paio di sbandamenti anche oggi Petruzzi è una partita molto difficile per lui lo è per la Roma in questa ripresa ha confermato di essere giocatore tutto da seguire molto interessante è stato bravissimo già nel derby di domenica dal bandierina Del Piero Orlando prepara il cross cerca di andare via Totti ancora Del Piero e pallone altissimo ha tentato evidentemente di colpire di dare effetto al pallone ha colpito troppo da sotto e quindi assolutamente impossibile per gli attaccanti cercare di intercettare la sfera di testa Piacentini ha cercato di scavalcare Torricelli pallone finito direttamente fuori rimessa a bianconera Vialli Tacchinardi ha superato Balbo Sousa all'indietro Ferrara ancora all'indietro per Peruzzi dall'altra parte in direzione di Orlando che adesso è attaccato da Totti Del Piero e poi c'è un intervento falloso di Totti proprio su Del Piero per quanto riguarda le edizioni precedenti di questa Coppa Italia a cavallo fra il 39 e il 91 Massimo Fiandrino ci ricordava con le sue cifre che sono state erano state tre le qualificazioni della Roma e due anzi tre della Juventus e due della Roma per quanto riguarda le partite disputate in Coppa Italia da sempre nella storia quattro vittorie della Juventus tre della Roma e due parecci vediamo se arriva quindi il quinto successo della Juventus in questa partita di andata in attesa del ritorno sul terreno dello Stadio Olimpico il lancio di Carrera mentre mette giù il pallone Orlando l'indito per Del Piero Del Piero che punta a Noni ancora Del Piero lo scatto l'intervento di Noni il tackle scivolato anche in questo caso si è alzato il cartellino giallo all'indirizzo di Anoni quindi altra munizione per quanto riguarda la Roma rivediamo e da qui è abbastanza difficile capire quello che è successo perché di certo Anoni è entrato sul pallone ma evidentemente prima di colpire il pallone ha colpito anche da Tergo il piede d'appoggio il piede destro di Del Piero terza munizione dunque per i giocatori della Roma Anoni Petruzzi consideriamo anche Caraboni per la verità doppia munizione quella che poi si è trasformata nel cartellino rosso le ultime battute di questa partita quarantesimo punizione bianconera di testa Ravanelli e il pallone che ha sfiorato il palo una grande occasione per la Juventus acrobatica da parte di Ravanelli vediamo se c'è la possibilità ecco di vedere la ripetizione punizione battuta da Del Piero sempre molto bene e Ravanelli ha proprio sfiorato il pallone che è finito di un niente sulla sinistra di Cervone questa volta Ravanelli aveva trovato il tempo giusto per beffare in uscita il portiere della Roma Ferrara Tacchinardi ha cercato di superare Piacentini va fuori misura Sousa il tacco Giannini Piacentini ancora Giannini Totti il controllo di Maini raddoppio di marcatura Piacentini cerca di servire Totti o Balbo la respittò anticipo di Ferrara su Fonseca ancora Fonseca Altro fallo in questo finale tre minuti alla conclusione dell'incontro poi naturalmente al pisco finale ascolteremo un'intervista da parte di Franco Costa che è appostato a bordo campo sulla pista di atletica vicino alle panchine la rigorsa di Lanna pallone nella zona di Maini sfera alzata da Carrera poi da Torricelli uno scontro Sousa Piacentini ancora la Roma e si è alzata la bandierina per la posizione di fuorigioco di Fonseca vedete non è assolutamente d'accordo con il Guardalina intanto sta per avvenire un'altra sostituzione mentre rivediamo l'episodio anche qui angolazione molto stretta non ci consente di capire se la posizione era regolare ma per quello che possiamo intuire pensiamo sicuramente di sì infatti quando già il Polone si era staccato dal piede del giocatore della Roma che ha fatto il passaggio Fonseca mi sembrava in posizione regolarissima e se Torricelli entra Iarni adesso ci sono due laterali sinistri in campo vedremo come combinerà la squadra Lippi però mancano soltanto due minuti alla fine più che altro una sostituzione per guadagnare un po' di tempo ribatte Piacentini Sousa Vialli controllato da Lanna Sacchinardi dall'altra parte del Piero lo stop affrontato da Annoni lo punta il controcross troppo largo lungo per Ravanelli il palleggio di Piacentini Giannini tentativo di pressing ed attacco un po' di tutti i giocatori della Juventus ma si libera bene del pallone la Roma lo manovra bene con una lunga rotazione e il lancio di Totti lo sganciamento di Annoni il duello era fra Porrini e Annoni arriva Balbo vedete l'ammocchiata di giocatori della Juventus attorno a lui approfittano della superiorità numerica per raddoppiare continuamente le marcature la sfera alzata da Ferrera Totti contro Vialli ancora Totti poi ha avuto una buona intuizione il lancio ma respinta di Carrera Giannini i due registi a confronto Sousa e Giannini Piacentini non si intendono Piacentini e Giannini adesso subentra anche la stanchezza tra i giocatori della Roma che hanno lottato parecchio per cercare di ovviare questa inferiorità numerica nel secondo tempo posizione regolare attenzione per Vialli Vialli in seguito da Petruzzi Vialli punta Cervone e altra impresa gigantesca di Cervone ma è calcio di rigore le proteste dei giocatori della Roma adesso cercheremo di vedere naturalmente con la ripetizione quello che è successo c'era sembrata decisiva l'uscita di Cervone adesso vedremo con le immagini se c'era fallo o no vedete l'ingresso in area di Vialli un intervento di Petruzzi ed uscita di Cervone crediamo che il direttore di Ganzi sicuramente sì abbia voluto punire l'intervento non di Cervone ma di Petruzzi Petruzzi nel suo ripiegamento difensivo ha spostato Vialli che poi è finito giù intanto noi stavamo guardando il monitor crediamo ci sia un'altra espulsione per i giocatori della Roma ci potrà dare una mano a Costa ma è senz'altro così è proprio Petruzzi che abbandona il campo a Costa si è Petruzzi sì sì Petruzzi che è proprio il giocatore che era intervenuto su Vialli effettivamente è un episodio dubbio questo anche se le immagini ci hanno fatto vedere lo sbandamento di Vialli nella corsa verso la porta anche per l'arbitro che è più vicino di noi comunque all'azione è difficile decifrare questi episodi ha ritenuto comunque di condannare l'intervento romanista il calcio di rigore è per la Juventus calcio di rigore al 46esimo minuto della ripresa è chiaro che è un gol che può essere fondamentale se realizzato nel contesto proprio di questo turno di Coppa Italia la rincorsa è di Ravanelli il tiro di Ravanelli e la palla in rete a questo punto dunque al 46esimo Juventus 3 Roma 0 un conto naturalmente era per la Roma andare all'incontro di ritorno con due gol di svantaggio rimanevano speranze adesso solo 0 a 3 diventa veramente tutto molto difficile anche per questo motivo si spiega la protesta di Petruzzi che è stato allontanato dal direttore di gara seconda espulsione in questo incontro all'inizio del primo tempo Carboni adesso proprio alla fine della partita Petruzzi vedete che continuano le proteste dei giocatori della Roma all'indirizzo dell'arbitro è un episodio difficile da digerire ripetiamo proprio perché può essere decisivo nel contesto della qualificazione gli ultimi scampoli di questa partita il pollone alzato da Lanna vedete in sovraimpressione il punteggio in marcatori due reti di Ghialli e poi Ravanelli su rigore nervi tesissimi da parte dei giocatori delle due squadre in particolare dei giocatori della Roma e l'intervento adesso su Tachinardi la Roma ha lottato veramente con grande orgoglio nel secondo tempo ha ritrovato tanti degli stimoli che aveva offerto nel derby era una partita comunque difficilissima da recuperare il pallone è messo giù per il calcio di punizione bianconero le ultime disposizioni siamo proprio alla fine di questa partita di Cervone la ricorsa di Orlando la sua battuta il copo di testa di Ghialli e il pallone che è finito fuori avevo rivisto la deviazione acrobatica di Ghialli che al di là dei due gol ha avuto quindi altre occasioni in questa partita almeno due nitide per andare in gol finito l'incontro linea Franco Costa un attimo Lippi un 3-0 insomma che forse non si aspettavano considerando come eravamo messi no però i ragazzi hanno fatto una bella una bella partita la Juventus è disinvolta anche il peccato che ci siamo già di tante occasioni nel secondo tempo quando siamo rimasti in superità numerica l'unica neo è quello che ci siamo già di tante occasioni però i ragazzi